A Caltanissetta è in corso un evento che celebra insieme la bellezza e la beneficenza. Da oggi infatti fino all'8 dicembre dalle 17 alle 19 nei locali di un istituto bancario di Caltanissetta si potrà visionare una mostra dal titolo Regine di Cuore. Protagoniste numerose donne che hanno voluto prestare il proprio volto per raccogliere fondi a favore della Casa del Sorriso Ollus di Caltanissetta. Oltre ai volti ritratti da Ettore e Maria Garozzo si potranno ammirare alcuni splendidi gioielli concessi per l'evento da una nota gioielleria della città. Ma non è tutto. L'8 dicembre verrà sorteggiato un vincitore che si porterà a casa una creazione della collezione I gioielli della Corona realizzata dalla gioielleria che partecipa all'evento. I biglietti per aderire al sorteggio potranno essere acquistati nella gioielleria di Corso Vittorio Emanuele oppure direttamente alla mostra. Nella nota si legge che tutti coloro che hanno preso parte all'organizzazione dell'evento lo hanno fatto in maniera totalmente gratuita.